La nostra epidemia è precisamente un momento in cui si è intravisto l'elemento di immediatezza che sta sotto la mediazione, molto modesto, si chiama DPCM, che sta sotto la mediazione, che in questo caso è l'ordinamento costituzionale. Noi avevamo visto questo, ma non l'avremmo voluto capire, quando la nostra Costituzione è nata, la Costituzione è una mediazione, è un ordine, che nasce da un'immediatezza, ma non l'abbiamo voluto capire. Nasce da un'immediatezza e la porta dentro di sé, nel nostro caso la Costituzione nasce dalla guerra civile e quindi è antifascista, non accidentalmente, ma sostanzialmente, ha un nemico interno. E come tutti gli ordini è un ordine orientato, non è un ordine neutro. Però di questo ci siamo dimenticati, cioè si dice fin dall'inizio che la Costituzione non è neutra. Noi adesso, davanti a una diversa eccezione, che non è più una guerra civile, ma è un'epidemia, scopriamo che una Costituzione ha dentro di sé un tasso di elasticità e un tasso di violenza inaspettabile. Per quanto ci possa sembrare strano, anche la Costituzione italiana è un dispositivo sovrano, grazie al quale si operano inclusioni ed esclusioni secondo la legge quando si può, fuori e contro la legge quando si deve. Però dietro l'emergenza, che è ancora un concetto giuridico che può essere messo nero su bianco, può essere ridotto a fatti specie, dietro l'emergenza, chi ha un po' di fiuto o di immaginazione vede l'eccezione. E dunque si torna a vedere ciò che per un giurista chelzeniano è impossibile, impensabile, assurdo, cioè che il diritto contiene, non proviene dal, ma il diritto contiene il non diritto. L'analizzazione della critica molto critica, cioè in cui la critica è la signora, la critica guarda dall'esterno l'oggetto, porta alla luce le sue contraddizioni solubili o insolubili, o escludibili. In verità le cose sono un po' più complesse, che una vera critica è anche autocritica. Cioè mette in discussione la propria neutralità ed innocenza. La critica è al tempo stesso necessaria, è impossibile o meglio necessaria e arrischiatissima, perché fino a quando non riuscirà a dar ragione di se stesso, cioè diventare critica assoluta, è sempre soggetto alla domanda, ma tu, come ti permetti, ma tu, la tua posizione, la posizione che assumi, perché l'assumi, come osi assumere una posizione superiore, come osi, e dopo tutto ancora una storia del soggetto la tua, cioè un soggetto che si alza e giudica. E allora di nuovo, fra l'uomo e le cose, l'uomo europeo ha messo il soggetto, come diceva Nietzsche. Questo va pensato fino in fondo. Una vera critica è critica dell'oggetto, del soggetto e delle forme e di se stessa. Però è anche vero che così non si va da nessuna parte e invece da qualche parte bisogna andare. E quindi il gioco al massacro non può essere eterno, infinito. E in ogni caso la decostruzione, non dico si deve fermare, perché non deve fermarsi, ma se vuole può fermarsi, accettare la propria contingenza, accettare la propria ingiustificata determinazione. il fatto di essere orientata da una parte o dall'altra. Non dico accettare determinati valori, perché la parola valore per me è pressoché una parolaccia, ma insomma accettare che esistano dei punti di vista plurimi e affermare di ricoprirne, identificarne uno fra essi. Ecco, io di più non riesco a dire non riesco a dire che esiste una critica assoluta grazie alla quale si sa la verità. È assurdo. Non riesco però nemmeno a dire che la critica è un gioco paranoide del sospetto e che come tale va abbandonato lasciando che l'essere sia. Perché lasciare che l'essere sia è una ricchissima storia che ci siamo lasciati per sempre alle spalle e quindi non possiamo reinventarcela oggi. Siamo dentro una macchina che è la macchina della metafisica. Tutti quelli che cercano di uscirne fanno più danno. La globalizzazione era per certi versi nella autoconsapevolezza di coloro che l'hanno promossa era una mossa per uscire dalla metafisica moderna cioè dall'oggetto fondamentale della metafisica moderna lo Stato era una mossa per costruire un'unità mondiale senza progetto dunque senza ordine dunque senza centro dunque senza mediazione una immediatezza globale o meglio una mediazione immediata globale beh non ha funzionato è stato facilissimo dimostrare che prima di tutto è una metafisica anzi è praticamente la riproduzione dell'idea di Dio in questo mondo e in secondo luogo che è venuta meno rispetto al proprio principio essenziale cioè l'unità l'unità del mondo è impossibile la metafisica non regge l'unità del mondo la metafisica ha a che fare con la contingenza dire che la metafisica regge l'unità del mondo è l'analogo oggi ventunesimo secolo del dire che tutto il mondo deve essere retto da l'impero cristiano cattolico universale governato da papa cioè una forma di metafisica tradizionale che crede davvero che esista un fondamento tanto potente da reggere l'intero mondo la metafisica che con la teologia politica si porta alla luce è una metafisica non impotente no ma una metafisica che riconosce la propria potenza come potenza determinata entro un certo raggio espresso in chilometri cioè gli stati e tant'è vero che dalla globalizzazione siamo entrati nella deglobalizzazione i chilometri sono diventati di più ma i centri sono più di uno la scena politica mondiale è pluralistica e ciascuno di questi centri è un sistema politico fondato sulla metafisica dell'ordine che è una metafisica ben fondata dal punto di vista di chi la abita mentre invece è contingente dal punto di vista di chi la guarda come studioso ecco naturalmente la contingenza degli Stati Uniti è molto più alta della contingenza della Cina ma questa è un'altra storia dalla metafisica non si esce pensare un mondo in modo non metafisico lasciare che il mondo sia è il sogno del pensiero ecologico ma ho l'impressione che il pensiero ecologico sia straordinariamente poco efficiente cioè non consente il sussistere della razza umana in questo pianeta naturalmente l'ecologista a questo punto risponde è il pensiero della potenza è il pensiero dell'efficienza è il pensiero metafisico quello che porterà l'estinzione della razza umana e io posso dire hai ragione anche tu però tornare indietro non si può andare avanti forse ma tornare lasciare che l'essere sia che poi è stata l'ultima parola di Heidegger e probabilmente il senso ultimo del pensiero ecologico ecologista vuol dire uscire dalla logica dell'opera dell'operare vuol dire uscire dalla logica dell'efficacia della potenza del rapporto soggetto oggetto che sono tutti rapporti logiche contingenti con la tecnologia politica e questo si impara che sono abitate dalla contingenza ma una volta che si è imparato questo non si è detto necessariamente che devono essere buttati via la teologia politica non conosce Aufhebung è pensiero negativo la contraddizione c'è e te la tieni la contraddizione c'è e resta è una contraddizione di principio con la teologia politica si smaschera si costruisce qualche cosa di diverso ma di analogo a ciò che si critica ma il totalmente altro non arrivi giusto due ulteriori parole rispetto a una sua proposta presente nel test ossia lei non si limita a esaminare le varie forme della critica però ad un certo punto parla del realismo critico in particolare cito lei parla del realismo critico in termini ben precisi ossia di come di una possibilità fondata sulla scommessa che sia possibile e concepire e praticare tanto un'immanenza che non sia superficialità quanto un radicalismo che non sia cancellazione arbitrale della realtà le vogliamo chiedere quindi se vuole spiegare un pochino ai nostri spettatori qual è questa sua proposta quest'ulteriore forma della critica quello che ho detto tutto quello che ho detto finora può essere rubricato come realismo critico agli occhi di un realista c'è troppa critica agli occhi di un critico decostruzionista c'è troppo realismo la mia non vuole essere un giusto mezzo vuole essere la indicazione del fatto che se la filosofia non si confronta con la realtà dell'esperienza non serve a niente non è giustificata secondo il mio parere io non faccio il logico faccio lo storico del pensiero politico e del pensiero filosofico voglio che la filosofia mi offra chiavi radicali di interpretazione della realtà cioè voglio non voglio servirmi degli strumenti che la realtà produce da se stessa per giustificarsi voglio conoscerli me ne servo ma voglio andare a volte questi strumenti sono le scienze sociali ovviamente voglio andare oltre come minimo come Weber che fa il sociologo e a un certo punto si accorge che bisogna fare qualche cosa bisogna essere qualche cosa di più che i sociologi per capire realismo critico significa confrontarsi con i fenomeni della realtà politica con il fatto che la politica è un sistema di potenza ricerca di potenza di esistenza per la potenza e al tempo stesso di esistenza per la potenza per l'ordine senza sconti senza infingimenti e al tempo stesso non dico non accettare ciò perché non è questo il punto e al tempo stesso ad operare il pensiero non per spiegare assecondando i processi ma per spiegare i processi a partire dalla loro radice appunto un marxista direbbe tutto vero ma alla radice c'è la contraddizione data dal sistema di produzione capitalistico io dico tutto vero ma alla radice c'è tanto quella contraddizione lì che non è certo avvenuta meno quanto quest'altra che io cerco di portare alla luce cioè la coazione metafisica all'ordine che al tempo stesso è una impossibilità di ordine e dunque il fatto che non si riesce a ragionare se non in termini e a operare se non in termini di ordini contingenti ma chi si sforza di vivere senza pensare all'ordine o è un ipocrita perché ci pensa in realtà o è destinato allo scacco chi pensa soltanto all'ordine come potenza è a sua volta destinato allo scacco perché non sa che quell'ordine è abitato da una contraddizione originaria che non è superabile è un'ordine che l'ordine va